Grazie. 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 Guarda voi che cos'è il tricolato. Cosa fai il tuo? Questo è un bel discorso. Tu lo hai? Tu lo hai? Tu lo hai? Lavorso. No. No. Una volta c'è la maratona. Ma guarda a Firenze. È una maratona lì. Ocicchi di l'anno, è un bel discorso. Non fa tempo più lungo. Non fai questo percorso. Non fai la scelta di guardare. C'è una gara con una scheda. E ti prendo le mani. E tu devi rispondere. Insomma. Però a prescindere da questa, c'è una pagliettina. Questa pagliettina da atleta. O da testista. Facciarla da qui. Asciata. Ce la prendo? C'è un anno c'è una pagliettina. Ucci. Non lo so, io credo. E' un anno c'è. E' un anno c'è una pagliettina. E da molto fai. E non c'è una possibilità di rimuovere questo di porto. Grazie.